ma salve bella lele questa una solita live della serie da zero quindi buonasera a quelli che guardano questo video su youtube anche se lo vedono all'ora di pranzo forse e detto ciò a quest'oggi forse riusciamo a pescare per la prima volta l'unico problema che il pg che allora per sfruttare meglio l'evento serve o la canna da pesca o il libro pesca io il libro pesca ce l'ho però ce l'ho sull'account sbagliato come vi ricordate forse nella serie ho aperto i bauli i scrigni de ferro cose del genere sul pg principale non sul ninja o la sciamana che già stanno al 30 quindi necessariamente dobbiamo recuperare o il livello 30 o dobbiamo aprire gli altri bauli non ho controllato col vetro sarebbe utile andare a fa le scarpe del vento ce l'ha mi serve da passare la cavalcatura al magazzino perché vorrei expasto pg e quindi per evitare ciò una persona molto gentile mentre fa le schegge col suo pg io mi accodo a lui nella gilda e faccio il livello 30 l'avrei potuto fare mille anni fa però non è stato questo il giorno buona pesca a tutti ragazzi si dice porta sfiga ha scritto un chat io risposto a te sinceramente non ricordo a quanto siamo partiti ti ho inculato il libro per ributtarla a terra non raccogli l'elevazione vabbè faccio finta che questa roba non l'ho droppata l'ho ributtata a terra livello 21 mone bella timo dentino d'orco croccante e stiamo a due buono buono livello 22 si scrocca bene si crocca forte valerion è molto semplice la cosa la differenza tra le skill prenderle non prenderle e quale prendere è una il ninja cac consuma mana se è in autocaccia con l'arco quindi te ritroverai al ninja che non può più sfrecciana certa o c'è le pozze l'autopozzanti blu oppure te ritroverai così e invece se tu non prendi le skill e lo lasci arciere sfreccia tranquillo un'altra cosa importante è che se lo fai maschio se incastrate meno e per quanto riguarda il livello c'è in teoria ci riesci tranquillamente con un equip decente manco troppo basta concentrarsi su sull'arma e dovresti riuscirci a sta senza pozza tranquillo allora intanto tu questa cosa la continueresti a fa comunque no io penso che te mollo le perché in 30 minuti ok cinque minuti dei pre show che sono diventati no no erano cinque non fare in tempo a pesca quindi tanto vale che mi metto a prova a fare qualcosa dei sordi quindi torno mille non me odia grazie mille questo guarda quanto è bello questo libro pesca da tre ore che non posso usare perché non sto al 30 se ti chiedi che sto a fare con la schermatina in alto sto a piccona se non arco de corno vediamo quanti medi questo lo dedico a leonardo che ci ha salutato o 4 abbi utile come un dito nel cuore comunque l'obiettivo di oggi in questi ultimi 15 minuti a livella costo pg e magari troppa una luna buona fare un po di picconamento facile e veloce nel frammento però so già che forse a malapena riuscirò a far livello 20 mentre il granchio distruttore regala che si fa si vende bene si griglia e si vende ok se griglia a cosa serve picconare per fare un'entrata fissa proprio visibile non è come i core che tu picconi farmi schegge e farmi schegge e prima che fai il primo antico diventi vecchio soprattutto all'inizio che magari ci metti tanto e picconi per 4 ore al giorno si picconi scheggi per 4 ore al giorno tu fai i minerali dopo che hai raccolto un numero di minerali pari a 100 con una pietra forno cioè aspetta ho tirato troppo su con una pietra da più 0 a più 3 puoi trasformare sti cosi in un lingotto il lingotto a che serve per slottare o per andare aggiungere i slot per riempire i slot dei collane cinture orecchini bracciali eccetera eccetera in maniera tale che te danno una percentuale aggiuntiva sui bonus che danno di base nel senso tipo gli orecchini debbano danno forza e hp la stessa cosa però secondo me come entrata passiva un altro arco di corno questo è detonato questo è proprio il suo 10 abbi il gira b e il gira b tutta la vita sulle armi con medi di livello alto secondo me potrebbe essere un buon investimento buttare due won per girarci sempre usarli sempre per i gira b insomma perché se sculi l'arma con parecchi medi la rivendi bene che può essere sia una spada che un arco l'arco è quello più facilmente vendibile perché serve a tutti per la stola più ai ninja che si mettono a giocare a frecciate da trasformati quindi è estremamente facile da vendere rispetto che ne so un paio è una campana per ditte però la campana la potresti trovare quasi a 10kk se non regalata che arco zodiaco secondo te quanto può costare un set per adla senza contare arma e armatura tipo lo scudo può costa tanto il fatto è che allora a me non mi piace mai rispondere a sta domanda preferisco mille volte fa restauro pg che cazzo vorrei che è medesimo nella tua situazione attuale in base a quello che c'è e te consiglio cosa ti potrebbe servire e cosa andrà a migliorare passo per passo perché effettivamente magari uno c'ha le skill api e poi se può sacrificare un po di diavolo per andare a ottenere un po di lampo in più per regge oppure uno che c'ha già che cazzo ne so il granato montato ti dico vabbè allora cerca un po di diavolo in più l'elemento lampo ce l'hai sbloccato exp con l'alchimia accesa solo di quello e sta a posto tipo lo scudo costa tanto è uno delle cose che costano i tre pezzi che costano di più so l'elmo il bracciale lo scudo anche se quelli effettivamente più rompi cazzo so l'elmo e no il bracciale perché potresti trovare hp assorbiti lampo diavolo che cazzo altro ci state utile cioè ce ne stanno tanti del bonus che dovresti andare a cercare comunque level apple abbiamo fatto un tempo un tempo quindi se scade l'arma possiamo riscattare la prossima oh questa è una spada luna piena questa è de marco vediamo vediamo pam 14 medi vabbè morale della facola oggi abbiamo scroccato tre livelli d'alessio abbiamo fatto due no un livello con questo abbiamo droppato quante lune una luna e due archi uno peggio dell'altro poi devo capire che faccio questa roba se provavo un po tutto dal fabbro oppure no invece come cavalcatura che consigli sciopparla e vabbè ci sta il manny che è il più versatile perché corre come che quando sta pescate lo proietti e poi che altro ci sta ci sta il cinghiale che è quello che ti permette di far più danno poi ci sta che ci sta quello ha cambiato gch e vabbè comunque è finito il mio tempo io devo andare se qualcuno è interessato io continuerò a fare la live però un altro gioco molto probabilmente perché intanto c'è al pg in autocaccia il principale o lacrime di cielo ma vado a dare una picconata lacrime di cielo prima di staccata e quindi mi metterò a giocare ad altro se volete restare mi fa piacere se non restate delle persone cattive orribili vabbè io mi fermo è stato un piacere terminiamo questo mi fa piacere se volete mi fa piacere se volete